Allora, se noi in qualche maniera vogliamo entrare dentro nella dinamica di questo lungo testo del foglio numero due, noi dovremmo percorrere il testo secondo tre criteri. Primo criterio. Nelle antitesi noi troviamo sempre il passaggio dall'esterno all'interno. Uccidere è qualche cosa di esterno, si vede, è oggettivo. Il discorso che invece fa Gesù riguarda il mondo interiore e così pure nelle altre cinque antitesi. Il tentativo che Gesù Cristo fa è impara a giudicare il tuo animo. L'azione nessuno dice che non sia importante, ma è importante il tuo animo. È il principio che vi illustravo prima, materia grave, piena avvertenza, deliberato consenso. Bergoglio cosa dice? La stessa cosa. Non fermarti al dato oggettivo, giudica il tuo animo. Sono due mila anni di differenza, ma il principio di fondo è lo stesso, dall'esterno all'interno. Tante volte, non so se succede a voi, a me succede, tu ascolti i politici e fanno un ragionamento che è impeccabile, oggettivamente, chapeau, e dici, meno male non tutti, mente e sa di mentire. In questo caso, il dato oggettivo è impeccabile, il dato esterno è impeccabile, e l'interno? Se tu menti e sai di mentire, Gesù Cristo ti direbbe, lascia perdere, non dire queste cose. Sai di non poterle mantenere, sono belle, ma sai di non poterle mantenere. Fai delle scelte di tipo ecologico? No, sono ideologiche, non sono ecologiche. Altre scelte possono essere ecologiche, sia all'esterno, sia a livello di coscienza. Ma ci sono delle persone che molto spesso adoperano l'ecologia per un fatto ideologico. Però il discorso oggettivo è impeccabile, ma tu capisci che c'è il trucco. E Gesù ti insegna a fare questa distinzione, sempre, tra ciò che è esterno e ciò che è interno. C'è un altro elemento da tenere presente. L'oggettivo è il soggettivo. L'oggettivo è una cosa, e guardate che è facile da giudicare. Il soggettivo è più difficile perché una persona instaura dentro di sé una specie di tribunale dove io sono giudice e io sono imputato. È difficile perché occorre tanta pulizia mentale. L'esperienza di vedere uno che mente e convince gli altri di ciò che sta dicendo. E gli altri dicono, sì, va bene così. In tutto questo insieme ce n'è uno che non è convinto. Ed è quello che ha mentito. Perché lui sa che sta mentendo. Quindi, il fatto che gli altri gli diano il consenso non significa che quella bugia che ha detto diventa verità perché gli altri danno il consenso. Perché lui sa di aver mentito. Quindi il dato oggettivo è una cosa. Il dato soggettivo è un'altra. Ma è confondere le due cose. Il consenso non dà la verità. Consenso dà il consenso, ma non la verità. Non dimentichiamocelo mai. Quando io vedo certe certe trasmissioni che dicono ma la stragrande maggioranza dei paesi ha questa legge. E allora? esiste una forza nel dato reale che è superiore a qualunque consenso. Che colore hanno le poltrone? Se noi tutti ci mettiamo d'accordo che è verde non cambiano colore restano rosse ma abbiamo il consenso ho capito io ma il consenso non fa la verità. Il consenso mette d'accordo le persone fa sì che una società non sia in fase rivoluzionaria ma pacifica ma non significa che siamo nella verità. Se io cammino per strada un camion dell'esercito mi viene addosso mi spacca una gamba io entro 90 giorni non posso fare denuncia perché faccio la denuncia al 91esimo giorno il giudice cosa mi dice? Tesoro ciao perché la legge dice che entro 90 giorni bene dopo basta sì ma l'handicap mi resta e non me lo sono fatto io. Allora la realtà viene data dal consenso guardate che questo è un problema molto delicato e Gesù lo tocca questo problema altro è il dato oggettivo altro è il dato soggettivo la verità appartiene al soggetto in rapporto con il reale non appartiene alla legge la legge segue il criterio della pacifica convivenza tra i cittadini non segue la verità perché non è il suo mestiere il suo mestiere è fare che una società funzioni il meno peggio possibile non è fare giustizia e poi c'è il terzo criterio con cui comprendere queste antitesi il terzo criterio lo trovate la linea 96 ed è un qualche cosa che Gesù ha perseguito per tutta la sua predicazione ci ha rimesso la pelle anche per questo altro è sembrare altro è essere guai a voi scrivi farisei ipocriti che amate farvi vedere mentre pregate nelle piazze e in privato divorate le case degli orfani e delle vedove che erano le due classi sociali impotenti nella società ebraica lì voi avete un esempio una pennellata velocissima dove comprendete quello che è il sembrare da quello che è l'essere tenete presente anche il fatto che la parola ipocrita in bocca a Gesù non vuol dire bugiardo parola greca vuol dire commediante uno che recita una parte non sta esponendo se stesso sta esponendo una maschera di sé perché il suo vero volto è un altro e molti cristiani sono così l'errore è sempre ammissibile ma la filosofia del sembrare non è ammissibile tu puoi fare un errore è umano ma gestire una vita intera con questa doppia morale il Cristo dice non funziona proprio così non funziona così perché il seguimi non comporta questo atteggiamento puoi anche averlo ma hai una strada da percorrere per tirartelo via la conclusione la conclusione è quella più difficile da accettare linea 98 voi dunque siate perfetti come è perfetto il padre vostro celeste la prima cosa con cui arrabbiarsi è la traduzione date un'occhiata alla linea 100 e date un'occhiata alla linea 101 esetze sarete non siate c'è una differenza ecco lì c'è tutta la portata della rabbiatura quando io dico a una persona guarda ti do un criterio se puoi gestisci la tua vita con questo criterio sarai non sei è una promessa il futuro è una promessa io ho cercato parlato anche con i miei colleghi dico ma porca la miseria dico perché quel esetze l'avete tradotto con un siate quando è un sarete risposta perché e lo potete vedere anche voi andate alla linea 36 avete inteso che fu detto agli antichi che tempo è? è un futuro dimmi a 43 che tempo è? futuro allora questo mio collega dice vedi dice questo esetze è un futuro e può essere preso come un comandamento e quindi si traduce con siate dico ma ascolta questa possibilità filologica può anche esistere però il contesto ti proibisce di farlo perché Cristo ce l'ha a morte coi comandi e dice in passato vi fu detto questo ma io vi dico la vostra giustizia sia superiore e quindi è il contesto che ti proibisce di tradurre come ti pare non è un comando perché se fosse un comando ricadrebbe nella logica degli scrivi dei farisei ci siete è una promessa che è un'altra cosa la promessa qual è? se tu per quello che puoi al 30% al 60% al 100% no 100% scordatelo ma se tu fai quello che puoi nel momento in cui ti incontri con Dio dice la prima lettera di Giovanni tu sarai come lui perché lo vedrai così come egli è quindi quel sarete perfetti è un dato escatologico non storico cioè se tu accetti questa mentalità con cui condurre la tua vita diventerai così ci siete? wow c'è una grossa differenza tra il siate perfetti che poi è una presa per i fondelli come facciamo ad essere noi persone finite perfetti come il padre che è infinito e come dire ti obbligo a essere un frustrato quando tutto il discorso è dai quello che puoi in maniera pulita quello che manca lo mette Dio ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio vi è chiaro? certi miei colleghi li capisco ma non del tutto diverso invece e finiamo subito perché sono le undici e venticinque diverso invece è la tradizione di questo logion di Gesù in Luca Luca che ha capito subito il doppio la doppia possibilità di capire l'affermazione di Matteo perché la puoi interpretare in maniera corretta sarete promessa o la puoi interpretare come questo come questo mio collega siate comandamento questa interpretazione che io reputo non corretta perché Gesù è anti comandamenti passato vi fu detto ma io vi dico Luca disambigua l'affermazione riportata da Matteo e come la traduce è questo sì questo è un comando linea 104 ginez c'è niente da fare questo è un imperativo diventate diventare è un cammino è un obiettivo da raggiungere diventate misericordiosi come anche il padre di voi misericordioso è questa è la traduzione letterale del testo greco per cui in italiano si dice siate misericordiosi come il padre vostro che è nei cieli eccetera però è interessante vedere la modifica non si parla di perfezione non si parla di impeccabilità mentre Matteo se tu accetti questa mentalità che Gesù ti offre ti viene promesso che sarai come lui Luca traduce invece in un impegno storico e dice vogliamo riassumere tutto quanto tutto quanto sta in questa frase diventate non siate non c'è il verbo essere c'è il verbo ghinomai che ha questa sfumatura di progressività siamo nel greco ellenistico dove il dato di fondo è la misericordia allora c'è da capire che cosa significhi essere misericordiosi e l'essere misericordiosi i nostri amici di Spilimbergo lo sanno perché ho fatto con loro otto incontri cioè tanto quanti ne facciamo qui solo che ne ho fatto uno per settimana sul tema della misericordia che cosa significa misericordia nell'antico cosa significa misericordia nel nuovo e la prima cosa significa imparare dalle donne ad avere la stessa tenerezza che loro hanno per i bambini piccoli perché in ebraico il primo concetto di misericordia viene espresso con la parola rahamim uteri la seconda con hanan fare grazia cioè quello che tu fai lo fai gratis in atteggiamento donativo non per avere un ritorno e se voi notate tutta quanta l'impostazione di Gesù corre su questa linea terzo terzo Geset la Geset si può tradurre in tante forme una di queste forme è la fedeltà per cui tu sei fedele all'umanità che c'è nell'altro non al modo con cui l'altro gestisce la sua umanità l'altro è forte può darti un cazzotto sta gestendo male la sua umanità ma è una questione di gestione tutti i rapporti a lui non per come lui gestisce la sua umanità ma per l'umanità che lui ha in sé lui è uomo lui gestisce male questo suo essere uomo tu di questo non devi tener conto nel rapporto con lui deve tener conto che è un uomo che è una donna è un modo diverso di concepire la vita i rapporti il rispetto la cordialità per questo motivo al capitolo primo di Marco versetto 15 dove ci sono le prime parole di Gesù nel suo apostolato pubblico dice metanoeite cambiate capoccia grazie arrivederci